Ciao! Ciao, pronto per il tattoo? Sì, certo! Ascolta, mi presti la forbice? Eccola qui! Eh sì, sai, comunque sono abbastanza gasato io per il progetto di questa gamba qui. Eh sì, sta veramente venendo un bel lavoro. Ma cosa stai facendo? Eh, sto tagliando i pantaloni. E perché? Eh, mi sono dimenticato i pantaloncini a casa e mi pareva brutto rimanere in mutande. Vabbè, come vuoi tu.